Proclamo il risultato della votazione con appello sulla mozione di fiducia al Governo. Senatori presenti 308, senatori votanti 307, maggioranza 152, senatori favorevoli 169, senatori contrari 133, senatori astenuti 5, il Senato approva. Le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni Permanente e i sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del Regolamento sono pubblicati nell'allegato via resoconto della seduta odierna. Il Senato sarà convocato a domicilio.